Ricorderete probabilmente il 18 luglio, giorno in cui sulla 20 si verificarono due tragici incidenti ed in uno dei quali morì un giovane quarantenne a bordo di una punto bianca. Il ragazzo era albanese e stasera mi ha contattato la sorella perché cerca disperatamente testimoni. La sorella mi fa presente che il ragazzo deceduto nell'incidente aveva un bambino a cui era legatissimo di 5 anni che ora passa le giornate al cimitero a cercare il padre, quindi cerchiamo in tutti i modi di aiutarli. Se notate, inavvertitamente io nel video pubblicai una foto in cui purtroppo all'interno si vedeva il giovane deceduto. Questa foto è stata poi ovviamente rimossa un po' da tutti e adesso la ho solo io ed è forse la ragione per cui sono stato contattato. Questa foto era stata diffusa da Nebro di News. Allora una delle domande che pone la sorella appunto è rivolta a Nebro di News se per caso sta a dare qualche informazione diretta perché appunto chi ha scattato la foto era lì ed essendo lì potrebbe essere quindi un testimone in grado di aiutare la famiglia a ricostruire cosa è accaduto a questo poverissimo ragazzo. Salve, visto che voi avete un canale YouTube e lì avete pubblicato pure una notizia per un incidente che è accaduto a Messina tre mesi fa per un ragazzo che era morto con Fiat Punto sotto un tigre. volevo sapere soltanto quelle foto in diretta dove le avete trovate perché noi stiamo cercando i testimoni se c'è qualcuno che ha visto questo incidente. questo è tutto perché lui è mio fratello e ha lasciato un bambino di cinque anni e c'è una moglie siciliana però il suo link era l'unico che ce l'ha la foto in diretta di mio fratello sdraiato proprio lì sulla sediglia della macchina. io lo ringrazio tanto, se lei può collaborare, scusami non c'è, eravamo sotto shock io prima non potevo scrivere, adesso proprio mi sto riprendendo e questo è che è accaduto, in casa nostra è accaduta una bomba grazie mille, se mi puoi aiutare, se puoi pubblicare qualcosa io non sono di zona, sono residente ad Ancona cioè stiamo cercando di tutto, vediamo se lei mi può aiutare visto che voi siete pure di zona, se pubblico qualcosa, visto che voi vi seguono tante persone se magari scrivi qualche notizia, per favore Dio vi benedica, io vi mando anche foto del bambino che è davanti al cimitero del padre io ho chiesto permesso pure a mia cugnata di attaccare alla notizia che lei vuole emettere e praticamente io gli dico questo mio fratello era un grande lavoratore, si era alzato la mattina, andava a lavorare a Palermo che così portava da mangiare alla famiglia la sua famiglia si trovava al mare a Milazzo purtroppo è accaduto questo, lui era molto collegato al suo figlio, molto e io e noi cerchiamo giustizia, testimoni, se qualcuno l'ha visto, queste foto da dove sono uscite io sono la sorella, Enida Demko la sorella di Ilsyan Demko grazie a tutti Grazie a tutti.